Caro direttore, carissimo Ivo, mi fa molto piacere oggi unirmi a tutti quelli che ti ricordano con affetto e con rimpianto. Per 28 anni ho fatto parte della compagnia del Teatro Stabile di Genova e per 26 anni sotto la tua direzione. Cosa ricordo di più di te? Una grande simpatia e il grande affetto e stima che tu hai sempre avuto nei confronti dell'attore, degli attori. Hai sempre voluto una compagnia forte, strutturata ed io mi onoro di averne fatto parte insieme alla grande Lina Volonghi, a Erospagni, a Camillo Milli, a Ferruccio De Ceresa e alla indimenticabile Mariangela Melato. E quindi direttore ti abbraccio con grande, grande, grande affetto e ti ringrazio. Ciao.